Ciao a tutti e bentornati a quest'ultima puntata, prima dell'estate, di Tessiland Condivision. Abbiamo deciso di improntare questa puntata sulla positività, sull'ottimismo, sulle cose belle, ricca di sorprese e di tante novità. Iniziamo subito la puntata con una persona che ci è venuta a trovare, vale a dire Rosy! Ed eccoci qui! Et voilà! Sorpresa! È tornata a trovarci Rosy, che bello! Ogni tanto vengo a trovarvi, dai! Finalmente un po' di compagnia! Esatto, per giustizia! E poi perché ci parlerai di un'iniziativa che hai creato tu molto molto bello! Esatto, un'iniziativa nata diciamo un po' per caso, per ecco, un'idea nata così che invece devo dire mi ha portato un po' di soddisfazione! Grandi soddisfazioni! Più che meritate! Allora, vale, sì, come ben sai sono qui appunto per parlare di questo piccolo evento che abbiamo svolto con tante creatrici, quindi persone che ci seguono sul mio canale, diciamo, privato, professionale! Che implodiamo essere! Rosaria Tessi Lannuncinetto! Esatto! Se volete andare a vedere, ecco, questo evento che abbiamo trattato potete andare tranquillamente sulla pagina Facebook! È nato tutto per gioco perché, come tu ben sai, vale, ho una piccola passione, diciamo, per proporre a chi ci segue sulle varie community, insomma, dei modi, diciamo, un po' simpatici, carini, giovanili, tanti sono gli argomenti che trattiamo, quindi si parla di moda, di spunti, di tutorial, di idee prese dalle riviste, dai social, tutto quello che ha a che fare con la, appunto, creatività! È nata così per caso la challenge di giugno! Si tratta di, diciamo, un appuntamento che ha coinvolto l'intero mese, quindi ogni settimana c'era un appuntamento... C'era ogni mercoledì, giusto? Bravissima, precisissima! Ogni mercoledì ci siamo date un appuntamento con le varie creative sul profilo, Io davo lì input, quindi c'erano anche dei piccoli post creati con i vari argomenti, quindi abbiamo trattato sempre, come dicevo prima, argomenti che avessero a che fare con la creatività e soprattutto con l'estate, eravamo a giugno, quindi gli argomenti trattati hanno riguardato l'estate e la creatività. Devo dire che anche le creative, ecco, mi hanno fatto capire che sono al passo con la moda e con i tempi, perché nelle varie... attentissime, devo dire, nelle varie sfide, chiamiamole così, perché alla fine la challenge è quello, è una piccola sfida, l'unica cosa, ecco, non c'era un premio materiale oppure una vittoria... Era simulica, per divertirsi e anche per mostrare le proprie creazioni, anche perché leggere nei commenti come hai realizzato questo lavoro, oppure quanto filato ci hai voluto per questo vestito, è stato comunque un modo per loro per creare interazioni. Quindi, come stavo dicendo, appunto, gli argomenti sono stati diversi tra loro, le clienti, attentissime, perché appunto abbiamo eletto, poi, diciamo, ti spiego anche come sono nate poi le vincitrici, perché ecco, per eleggerle ho pensato di lasciar votare chi vedesse appunto il post nel commento, quindi la creatrice ha postato la sua creazione nel commento, e in base ai like ottenuti ho realizzato questo podio delle vincitrici. Assolutamente, di fatti, se poi ecco, qualche risultato è cambiato, è solo perché a distanza di qualche giorno, esatto, è cambiato qualcosa. Però comunque sono state attentissime, come dicevo, le creazioni sono al passo con la moda, quindi bikini, abitini crochet, borse in paia, in juta, in rafia, tutto quello che noi, insomma, abbiamo detto durante le giornate, nei vari video, negli articoli, è stato rispettato, quindi siete state davvero bravissime. Altri complimenti li facciamo anche a chi non ha raggiunto, ecco, forse il risultato sperato, ma comunque ha postato creazioni meravigliose. Postano poi alla fine tutti i giorni, ricordiamolo, sulla nostra pagina Facebook. Esatto, questa volta l'ho fatta sul profilo privato, ma naturalmente ogni giorno potete postare su Meglio di Maya, c'è la community dove noi guardiamo sempre tutto, quindi quello che realizzate, i prodotti e quant'altro. Vale, per non portartela, insomma, troppo alla lunga, tanto comunque tu hai vissuto in pieno dietro le quinte, il tutto, parliamo delle vincitrici, quindi coloro che si sono inserite nelle classifiche, nei posti più alti delle classifiche, hanno portato a casa, ecco, questo piccolo applauso del resto della community. Allora, come dicevo prima, ogni appuntamento aveva un argomento diverso. Ho deciso di partire dalla cosa più semplice, più amata e più acquistata della stagione, quindi parliamo dei lighi, senza alcun dubbio. Sono state tantissime le creazioni che avete condiviso e a vincere è stata proprio una creazione diversa. Non è un capo d'abbigliamento, non è un accessorio da indossare, ma bensì è un amigurumi, un amigurumi che appunto raffigura Harry Potter, quindi amatissimo dai più giovani e non solo, ed è stato realizzato da Pina De Cillis, quindi curato nei minimi dettagli. Anche la foto merita tanto e di conseguenza si è portata a casa la prima vittoria. Bravo, io poi ti do la foto e abbiamo, tanto tu ami queste cose. Il secondo appuntamento invece ha trattato, vedeva come protagonista la creazione che era stata realizzata appunto per l'estate 2022, quindi non c'era un articolo, un argomento preciso, qualcosa che le creatrici avessero appunto realizzato per l'estate. Qui abbiamo avuto pari vittoria, quindi sono stati due due vincitrici proprio perché erano entrambi molto belli. Si tratta di due bikini crochet. C'è stata Susi Brengola, o Brengola chiedo scusa per la pronuncia, che ci ha postato un bikini, la parte superiore ecco di un bikini indossata, e poi c'è stata Alessia Pasqualitto con la realizzazione di un bikini intero, anche questo molto bello. Il terzo appuntamento invece ha visto come argomento ecco la borsa crochet, proprio perché noi siamo state ecco, ci siamo innamorate delle borse di paia, delle borse di juta, delle borse di renfia, e quindi per lasciare spazio anche alle vostre creazioni ho deciso ecco di trattare questo argomento. La vincitrice in questo caso è sempre Pina dei Cindis, che abbiamo già visto nel primo. Quindi doppia vincitrice. Doppia vincitrice, esatto. Con una borsa a dir poco meravigliosa, che ha a che fare con i girasoli, è una borsa in juta che è stata appunto decorata con delle applicazioni realizzate all'uncinetto, e qui c'è stata la bravura, la creatrice è scesa in campo, il modo di proporre la sua creazione, quindi un paio di occhiali da sole, l'angolino perfetto, un libro da leggere, tutte cose che facessero appunto pensare alla spiaggia oppure un momento rilassante da trascorrere fuori di casa e questo è un ottimo spunto anche per le foto che volete, che solitamente ci postate nella community. Diciamolo, e spesso lo diciamo in condivision. Sono bellissimi progetti, a volte però magari non riescono ad essere valorizzati proprio per la tipologia di foto e invece ecco... Esatto, essere così scrupolosi, tanto ecco non richiede tantissimo tempo, potete anche se mai progettare la foto in mente e poi scattarla in pochissimo tempo, è proprio per essere complete al 101%, la descrizione curata che aiuta anche chi vorrebbe appunto rifare la vostra creazione, a cercare tutto quello che occorre, lo scatto per invogliare proprio, è proprio questa la creatività, stimolare anche in altre persone la voglia di realizzare la stessa creazione. Beh, questo con Pina De Cillis è accaduto. Bravissima Pina per la proposta, lo scatto che hai realizzato e meritevole. Altra doppia vittoria per il quarto appuntamento per Alessia Pasqualitto. Anche lei si è ripresentata come seconda vincitrice della challenge e qui ci ha mostrato un suo amigurumi che ritrae una piccola vespa ma realizzata nei minimi dettagli, quindi immagino il lavoro molto particolare e faticoso, quindi bravissima Alessia. Per finire e per concludere questa challenge abbiamo visto sul podio Giada Giunta che ci ha proposto il suo abitino crochet realizzato con un filato ecologico che è proprio il Drake. Quindi si conclude così e queste sono le creazioni che abbiamo visto sul podio delle vincitrici. È stata sicuramente una bellissima iniziativa. Pensi di riproporla in futuro? Allora? Non so, magari ecco dopo l'estate o durante l'estate o... Sicuramente l'idea c'è, è già qualcosa, qualcosa già sta prendendo forma, non sicuramente a brevissimo perché vogliamo lasciarvi godere ecco più che altro l'estate, le vacanze, la famiglia, quindi con calma ritorneremo, però l'idea è quella di partecipare a questa challenge sulla community meglio di Maya che sicuramente è quella dove ci sono più creatrici che seguono il tutto, quindi vediamo poi come andrà lì. Ok? E ci ritroveremo poi in condivision. Assolutamente, con le nuove vincitrici non perderemo l'invito. Però nel frattempo potrete comunque vederlo, insomma, con su Maya di Maya. Sì, se mai potete prepararvi già con le creazioni da postare poi nella prossima challenge. Grazie mille Rosy di essere passata, grazie, grazie davvero per questa bella iniziativa. Grazie a te, ma figurati, grazie a te e a voi ecco come sempre. Tanto poi comunque avremo modo di vederti anche in futuro, le video varie, insomma. Saremo presenti, non mi preoccupate. Vi auguro una buona estate e ecco, ci rivediamo su altri canali. E adesso passiamo all'angolo novità. Allora, ci saranno tantissime novità in arrivo. Partiamo con i riassortimenti. Ebbene sì, torneranno i colori del Sox Pro, il filato che come sapete è davvero estremamente morbido. Il filato 75% lana vergine e 25% poliammide, adatto davvero alla perfezione per realizzare calze, ma non solo. Sicuramente si presta bene anche per l'abbigliamento, quindi ritornerà il Sox Pro. Ma non è finita qui, torneranno anche i colori del Chuck, l'amatissimo Chuck, che come sapete è questo misto acrilico utilizzato per amigurumi, ma c'è chi lo utilizza anche per l'abbigliamento, per le coperte. Davvero con il suo formato da 100 grammi, molto utile, molto versatile, che ritornerà in tutte le sue varianti di colore. E non è finita qui, oggi proprio abbondiamo. Il Chuck Lurex, in tante lo adorate, lo capiamo perfettamente. Perché comunque parliamo di un filato per il 97% acrilico e il 3% poliestere. Morbido con questo effetto lurex, che in tante avete utilizzato per realizzare dei cardigan e dei maglioncini da indossare durante l'inverno, per qualche occasione magari un po' più particolare. Perché grazie a questo tocco di lurex sicuramente vi consentirà di non passare inosservate. Ebbene anche il Chuck Lurex tornerà in tutte le sue varianti di colore, direttamente sul nostro sito Tessiland. Ma non è finita qui. Ebbene sì, perché ci saranno anche tante novità a partire sia da nuovi colori del Chuck Batik, proprio perché lo adorate e non possiamo darvi torto, ci saranno anche nuovi colori per il bravissimo Batik. Ebbene sì, ma non è finita qui. Ci saranno altre novità ancora in arrivo. Parlando del bravissimo, lo adoriamo tutti. Questo mega gomitolone da 500 grammi, 1500 metri di lunghezza, utilizzabile per abbigliamento, per copertine, per i grandi, per i piccoli, per gli amigurumi, per qualsiasi cosa. Rapporto qualità-prezzo ottimo, certificato Ecotex, disponibile in tinta unita, non vi è bastato? Vogliamo il bravissimo sfumato? Va benissimo. Anche il bravissimo Batik? Vogliamo il bravissimo lurex. Eh, bravissimo lurex? Come si fa? Ebbene sì, arriverà anche il bravissimo lurex. Quindi davvero potete completare la vostra gamma di bravissimo presente a casa vostra. Sarà un filato con la stessa qualità, però questa volta con l'aggiunta del lurex, quindi lo potrete utilizzare per realizzare ancora altri abbigliamenti, questa volta anche un po' più eleganti con questo tocco di lurex in più, di lucentezza in più, sempre mantenendo lo stesso rapporto qualità-prezzo, sempre certificato Ecotex, insomma, sempre un filato garantito da Tessiland, che solo Tessiland poteva offrirvi e per il quale finalmente siamo riusciti ad accontentarvi. Non è finita qui! Ci saranno anche altri filati in arrivo e li vedremo poi piano piano in seguito. E c'è un filato che invece posso farvi vedere proprio io adesso. Questo, parliamo infatti del Tec Cotton, pensate voi, sarà filo di scozia? In effetti lo sembra, vero? E invece no, pensate che si tratta di un filato 100% acrilico, ma davvero sottilissimo, che però proprio grazie alla sua particolare torsione, che ricorda tanto il filo di scozia, sarà possibile utilizzarlo per tutte e quattro le stagioni, nonostante sia acrilico, proprio perché è così sottile e lo potrete utilizzare quindi per ricami, ma anche per qualcosa relativo all'abbigliamento, in modo tale da poterlo indossare tutto l'anno. Disponibile in due formati, questo da 50 grammi e questo da 250 grammi, che però vedrete solo in alcune varianti di colore. E non è finita qui, ebbene sì, di novità sono state tante, quindi io finora ho parlato un po', adesso però passiamo alla visione e riassumiamo questa volta con gli occhi le fantastiche novità in arrivo in casa Tessiland. Grazie a tutti! 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 Andiamo tutti!